Salve a tutti amici YouTube, qui Archeus di tutti i Pokémon. Allora, prima di cominciare ho un video con un po' di sfogo, perché questo re di pixel mi ha fatto un po' incazzare, perché non deve dire che Archeus non è il dio. Se re di pixel avesse visto Archeus e gioina della vita il film, capirebbe come si pronuncia il nome Archeus, non Arceus, Archeus, Archeas, Arci, si dice solo Archeus. E poi, re di pixel mi ha detto che Diaga e Pacchia e Giratina non servivano a niente. Magari tu re di pixel, devi capire che cosa servono di Alga, Pacchia e Giratina. Allora, innanzitutto è Giratina il primo genito, di Archeus. È stato esigliato perché era cattivo nel mondo distorto, poi controllava il potere del caos. E non ha creato solo di Alga e Pacchia e Giratina, solo per fare le altre cose e niente altro. E poi, tutti dicono Giratina o Giratina, si dice solo Giratina e che scatole. E poi, questo re di pixel dovrebbe capire che non si dice Arceus, Archeas e Arceus. Non si dice, si dice solo Archeus. Lo sapete come si dice? Archeus. Infatti, nel film lo dice. Ma questo re di pixel ha perso la testa? Perché lui pensa che Archeus non è Indio dei Pacchi. Re di pixel, se ti guardi il film Archeus e Giugielo della vita, capirai come si pronuncia. E che scatole. E poi, tutti pretendono di catturare il Divino perché è l'unico Pokémon che si può curare. Solo perché ha le placche della vita, nel Pokémon Platino non è che vuoi subito catturarlo. Fai un po' fatica a catturarlo perché ha un peso molto maggiore rispetto agli altri Pokémon. Poi, vi domanderete, ma che serve quella ruota lì se Archeus tiene le placche della vita nel punto più grosso? Magari perché questa ruota deve reggere le placche della vita. Non... Cioè, è nato così Archeus? Oppure si pensa che Archeus abbia questa ruota che ha addosso a lui. L'abbia presa da una ruota del Dharmakata, che è una ruota della religione buddista. Che loro hanno mis... Io non mi spoilerò, sennò è un casino. Poi, nell'anime, Archeus si chiama Lord Archeus. Nel mondo Pokémon invece si chiama Archeus. E allora perché, voi tutti vi chiederete, perché Archeus viene sempre lasciato per ultimo nel gioco del Pokémon Platino? Magari perché si fanno prima i figli, dopo gli adulti. Ecco, qui fa vedere un po' la creazione. E poi... Voi mi domanderete, ma perché ci stai portando questa casa su ReadyPixel? Perché non voglio... Cioè... ReadyPixel, se stai guardando questo video, devi capire che Archeus è il Dio. Sennò ti lancio il giudizio, se ti sente. Ecco. Archeus di Archeparkia e Ghiratina. Poi... Poi mi direte, ma perché Ghiratina è andato nel mondo distorto? C'è una ragione, perché è stato creato dalla materia e il caos. Quindi Archeus non aveva intenzione di... Tenere Ghiratina nel mondo Pokémon. C'era un Pokémon che doveva esiliarlo, no? Come Satana che è stato esiliato nella Terra. E poi... Vi domanderete ancora, ma... Perché non ha creato la Terra e poi ha subito creato i figli? Perché nel principio c'era il nulla. Ecco, queste sono tutte le energie che Archeus è dentro alle placche della vita. Tipo l'energia fuoco, l'energia acqua, l'energia psico. E poi, perché ha voluto centrare Mew su tutta l'intenzione Pokémon? Perché i Mew sono gli antenati dei Pokémon? E soprattutto, perché hai fatto anche le Mega Piedre, le Mega Evoluzioni? Magari perché Archeus non pensava di creare Pokémon comuni come Rattatal, Metapod. Magari c'è un motivo. Perché ha detto Archeus... Mi ricordo che mio fratello Jack ha detto che quelle Mega Pietre servivano per potenziare i Pokémon leggendari. Ogni Pokémon, ma... Non funziona sui Pokémon... Normali. Ma funziona solo sui Pokémon leggendari. E poi dicono... Ma come fai a catturare Mega Giraxidor? Non è facile catturarlo. C'è prima Magikarp. Magikarp è la prima evoluzione di... Giraxidos. La stessa cosa vorrebbe in Mewtwo. Solo che però Mewtwo, invece di essere stato creato dai Mew, è stato clonato dal Mew, in laboratorio. E poi, il mistero di Grade War, è questo coso qui rosso. Tutti vi domandate perché Grade War ha questo coso rosso sul petto? Magari sarà perché è nata così. O Archeus l'ha creata così per fare un segno. Non so, non so il motivo. E poi, perché hanno messo O-O come animale Fenice? Magari, perché Archeus non aveva intenzione di creare i Pokémon dell'acqua, i Pokémon del fuoco. Eh, O-O è un Pokémon del fuoco, però è una Fenice. L'Uge è invece un Pokémon dell'acqua. E poi, Archeus e Giugliano della Vita. Perché Parchi Diag sono intervenuti a placare la pioggia della vita? C'è la pioggia di meteoriti? Magari perché li ha convinti Scina. E perché Ghiratina non è intervenuto quando Archeus stava per lanciare il giudizio? Magari perché Ghiratina aveva da fare nel mondo distorto. E nient'altro. Se ti vedi il film Archeus e Giugliano della Vita lo capirai. E l'ho visto. L'unica cosa che Archeus dà fastidio sono le Poké Ball. Non puoi catturarlo con le Pokémon. A meno che non sei nel Pokémon Spada e Scudo, Pokémon Millennium, che è un videogioco che ce l'ho io. Magari perché Archeus odia essere catturato. A meno che non lo vuole lui. E poi c'è una ragione. Perché Ghiratina non vuole essere amichevole con gli umani? Magari perché Ghiratina, quando è stato esiliato nel mondo distorto da Archeus, voleva disinterare vendetta. Non lo so. Queste sono foto che mi hanno regalato, che mi hanno mandato. Alley, lui con Alley. E voi mi direte, ma perché Ghiratina è cattivo con gli esseri umani ma con Alley no? Non lo so. Devo ancora cercare questo mistero. E poi soprattutto nel film Pokémon Ghiratina e Guerriero dei Cieli, perché ha rapito di Alga? Allora, ho visto una parte del trailer del film Ghiratina e Guerriero dei Cieli. Magari probabilmente perché voleva fare un riscatto o qualcosa del genere, non lo so.